Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Mentana. Sondaggio Mentana, quello di ogni lunedì sul Tg di La Sette. E qual è stato l'effetto benzina, il caos benzina, sugli elettori di Meloni? Eh, praticamente nessuno, perché è rimasto invariato Fratelli d'Italia al 31,3%. Il Movimento 5 Stelle scende dello 0,1 al 17,6 e recupera qualcosa in PD che è dato al 14,2. Più 0,2, era al 14%. Poi abbiamo la Lega all'8,3, meno 0,3. Forza Italia al 6,4, meno 0,5. E poi Alleanza, Azione Italia Viva al 7,8, più 0,3. Verdi, Sinistra e Italiani al 3,7 invariata, più Europa al 3%, invariata. Per l'Italia con paragone, perché adesso non si chiama più Italexit, ma si chiama Per l'Italia con paragone, meno male che non è per la Francia, al 2,3% più 0,1. E Unione Popolare 1,8 più 0,2. Grazie a tutti e arrivederci a presto.